Le comunità possono disegnare le città del domani proprio perché partendo da chi vive la città noi dobbiamo aiutarli con gli architetti, con i professionisti a immaginarsi il nostro futuro. È un po' come ogni tanto, avendo la delega alla montagna, sento i nostri montanari, cioè ognuno vive il suo spazio. Sicuramente i ragazzi, i giovani e le famiglie che vivono la città possono contribuire attivamente ai loro spazi. Abbiamo tante cose inutilizzate, il riuso è fondamentale, qualcosa magari lo dobbiamo anche togliere, ma quello che non togliamo possiamo riutilizzarlo. Questa è la scommessa per il futuro. Grazie a tutti.